E' stata presentata oggi la lista Savignano Noi e ne parliamo con il candidato sindaco Andrea Sarti. Ci può presentare quali sono le caratteristiche principali di questa lista? Allora, Savignano Noi è una lista civica che raccoglie veramente tanti savignanesi che in vari ambiti si sono adoperati e si vogliono adoperare per Savignano. Savignano Noi è anche un invito a tutti i cittadini a darsi da fare per Savignano, qualora lo vogliano entrare anche nel nostro gruppo e darci una mano fattivamente, ma anche quando poi le amministrative saranno passate vuole essere un invito per ciascuno a darsi da fare per il proprio paese, per Savignano. Vi presenterete alle primarie con la lista del PD, siete in alleanza con loro quindi? Sì, entreremo in alleanza col PD, adesso tra un mese ci saranno le primarie dove ci andremo a sfidare con il candidato del PD che è Filippo Giovannini. Noi ovviamente vogliamo essere un valore aggiunto nel senso che riteniamo che vorremmo portare i cittadini finalmente a governare, a dire la loro su Savignano. E quindi invitiamo tutti affinché noi ci sentiamo cittadini, non politici e quindi invitiamo tutte le persone a darci una mano, a sostenerci proprio per fare in modo che finalmente sia la politica al servizio del cittadino. Anche per quanto riguarda il logo che avete scelto ha delle caratteristiche ben definite, in che cosa consistono? Sì, il logo che abbiamo scelto è Savignano Noi, il Noi ovviamente è un noi che non è solo noi del nostro gruppo ma è proprio come dicevo prima un noi, cioè ciascuno dei cittadini di Savignano si deve dare da fare per Savignano. In più soprattutto quella che vuole essere il nostro riferimento primario è la persona e il logo in un qualche modo va proprio a simboleggiare con questa freccia l'accentramento alla persona e il fatto che la persona vuole essere al centro di tutta quella che sarà la nostra azione di governo per Savignano.